Qualcuno si sarà chiesto chi è Shakti, molto semplice, è il nome che John McLaughlin ha voluto dare al suo complesso. In sanscrito indica intelligenza, bellezza, potenza creative, era forse così quel ponte tra oriente e occidente che questa musica rappresenta in un clima di collaborazione che risulta l'esatto contrario dell'imperialismo coloniale d'un tempo. Significativi anche a tal proposito gli atteggiamenti affettuosi e fraterni che McLaughlin, Shankar e anche gli altri solisti assumono fra poco quando intrecciano simpatici duetti a botta e risposta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.